Potremmo definirlo l'endorsement, il sostegno, del ministro alla cultura Gennaro San Giuliano nella giornata dell'8 febbraio in vista della stessa data ma nel 2025, quando toccherà all'abbinata Gorizia, Nova Gorizza, assumere il ruolo di capitali, capitale europea della cultura. Il ministro ha sottolineato il ruolo storico della città isontina, proprio alla vigilia della giornata del ricordo, venerdì 10 febbraio, in cui si commemorano i martiri delle foibe e l'esilio Giuliano Dalmata. Ma i cittadini di Nova Gorizza in Slovenia e di Gorizia in Italia, ha sottolineato ancora San Giuliano, sono stati capaci di superare rancori e divisioni, decidendo di ricostruire insieme il loro futuro, diventando un modello e un simbolo per l'Europa, ottenendo così il giusto riconoscimento di questo straordinario cammino. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in cassa ringrazia e così commenta. C'è un countdown, perciò stiamo contando i giorni che ci separano all'8 febbraio del 2025. Un giornata scelta dalla Repubblica di Slovenia per inaugurare la capitale europea della cultura ha ragione veduta, perché coincide con una data importante e con la morte del loro più grande poeta romantico sloveno. Tra l'altro coincide anche con un'altra data importante, pochi decenni dopo sarebbe nato Giuseppe Ungaretti che pur non nato qui, però qui visse, qui fece il soldato e qui scrisse delle opere toccanti, stupende, che rimangono nel cuore, oltre che naturalmente nella storia del nostro breve paese. È un momento importante, io ringrazio anche il ministro San Giuliano che ha voluto testimoniare la sua presenza con una dichiarazione, un comunicato estremamente importante, oltre che la regione presente insieme attraverso l'assessore Tiziana Gibelli alla cultura e naturalmente la direttrice del GECT che ha sottolineato come si stia lavorando alacremente verso questo traguardo, che certamente è quello del 2025, ma in realtà è quello del 2030, 2040, 2050 perché non so quanti abbiano piena consapevolezza che noi non stiamo lavorando per un evento di pochi giorni o anche forse di un unico anno, stiamo lavorando per cambiare la storia, nel vero senso della parola, dei rapporti tra Gorizia e Nuova Gorizia e rapporti tra un lungo, un ampio territorio del nord-est italiano e del nord-ovest sloveno. Grazie.